Il costo dell'alimentazione è talmente elevato che tutti gli animali, specialmente quelli di bassa redditività e che non producono molto latte, in questo momento si fa una cernita, si fa una seta e li mandiamo all'abbattimento. Quella che fino a qualche giorno fa era un'ipotesi, oggi è la tragica realtà. Con l'esplosione dei costi dall'energia ai mangimi, non solo non è più remunerativo allevare una vacca da latte, ma si produce rimettendoci. Diversi allevatori stanno compiendo scelte estreme. Lorenzo Brugnera è il presidente della Latteria Soligo, da qui passano le eccellenze trevigiane, dalla Casatella al Soligo Oro, formaggio che si produce dal 1883 e mai stato così in pericolo. Prima mandavamo all'abbattimento animali che quando arrivavano a 20 litri di latte non era più remunerativo. Oggi a 30-35 litri di latte un animale non è più remunerativo e quando parliamo di una cifra del genere è una cifra molto alta. Quello che Brugnera tiene in mano ormai è diventato oro. Questo è il mais fiocato, questo da 20 euro è passato a 43-44 euro. La soia che è dentro, che è macinata e che si potrebbe vedere all'interno è andata a 63 euro al quintale, da 35 euro al quintale. Le cose sono tutte raddoppiate, ma vogliamo parlare del gasolio. Il gasolio da 60-65 centesimi, quello per l'agricoltura è passato a 1,40 euro. Peccato che al momento il prezzo del latte resti fermo ai 37 centesimi. È infatti ancora la grande distribuzione a decidere, ma resta da capire per quanto, visto che l'intera filiera ormai è intaccata da rialzi fuori mercato. Un latte deve avere sicuramente un aumento in questo momento dai 15 ai 20 centesimi. Non si parla più di pochi centesimi. Guardate che il carello della spesa potrebbe trovarsi vuoto. La fotografia è impietosa, anzi drammatica, e per frenare l'effetto domino serve agire subito su due fronti. Calmerare i prezzi dell'energia per la filiera agroalimentare e rendere remunerativo anche in Italia la cultura di mais e mangimi. L'alternativa, una volta finite le scorte europee, consiste nel riprendere in mano il tema, non più un tabù, dell'OGM. Senza prodotto, naturalmente, gli animali non vengono alimentati. Di questo non c'è ombra di dubbio. Dobbiamo affrontare anche questo ragionamento qui. L'allarme è serio, il tempo poco, ma è come oggi si mette in discussione il lavoro di una vita. Anche dentro di me la voglia di dire chiudo tutto, però l'abbiamo fatto per 50 anni, l'ho fatto per 50 anni questo lavoro. Siamo nelle nostre famiglie e vogliamo continuare, siamo innamorati di questo lavoro. Però non si può essere solo innamorati senza soldi. Senza soldi non si va a nessuna parte.